sport media 7 mercato lazio caseres è ufficiale 8 gennaio 2018 tags lazio caseres verona mercato i commenti in questa pagina vengono controllati ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo anche per le critiche più a spray in particolare durante l'azione di monitoraggio ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma tv abbiano contenuti volgari o sceni o violenti siano intimidatori o diffamanti verso persone altri utenti istituzioni e religioni più in generale violino i diritti di terzi promuovano attività illegali promuovano prodotti o servizi commerciali x mercato lazio articolo non e vai alla home page